Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi registro lo spacchettamento del secondo kit delle creazioni di Ivi che mi è arrivato giusto questa mattina, l'ho appena aperto e lo vediamo insieme ho resistito e non l'ho proprio toccato non vedevo l'ora che arrivava, già da quando avevo visto le foto di anteprima sulla sua pagina facebook che aveva combinato già tutto, ma va bene, fa niente c'è un sacco di roba ok cominciamo subito queste sono delle clip veramente belle questa è fatta, non so, all'uncinetto forse, non lo so, o forse è proprio bellissimo è un vero bellissimo adesso ricomincio con la tiritiera del bellissimo, lo sapete ok, scusate una è rosso e l'altra è proprio matita, credo ecco qui queste sono delle card ok adesso vediamo tutte insieme belle oggi è tornato un freddo bestiale, quindi sono congelata e ho le mani che funzionano un po' come vogliono loro belli da colorare cioè penso siano da colorare bellissimi io amo i disegni da colorare io ne ho diversi di quadernini sia quelli di tiger che altri comprati quelli proprio grandi e ogni tanto ci passo il tempo da sera mi piace mettiamo qua neanche ci provo a rimetterlo dentro le bustine tanto quello devo sistemare dejé così è che la quindi così magari Questa penso che andrà direttamente sulla mia agenda nuova di Tiger E' nera, gli darà un po' di colore 3 card Ops, scusate Ci vuole un attimo per uscire fuori dall'immagine Che carino Perché sono piazzate in una posizione sfumata con i tre piedi per la macchinetta Quindi sono praticamente piegata e storta per riuscire a mostrare di tutto Quindi ogni tanto esco fuori immagine Che carino E poi vedete, ma giusto giusto con la agenda di Tiger Nero Tutto questo, andrà tutto lì insomma, ecco, ci decorerò lei E' proprio cucito, guardate che... Scusatemi di nuovo E' proprio tutto cucito Che carino E' un quadernino Davvero davvero carino Bello, bello, bello vero E' un quadernino 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 Anche riesco a farvi vedere tutte cuoricino, aspettate, lo faccio vedere un po'. Bello. L'ombrellino che non può mancare in questo periodo. Pioggia, eh sì, bellissimo. Belli pelli. Gli altra volta erano dorati, questa volta sono argento. Carina. Così li vedete tutti. Sì. Sì. Non avevo mica capito come erano fatte. Sì. Che cadutose. Justin Mott, che carino di sughero. Belli. Davvero. Complimenti. Sei davvero bravissima. Io non provo una schiappa. a queste cose. Questo bello lo faccio vedere con il foglio colorato. E' sempre lo stencil che userò per la decorazione di novembre del mio bullet journal, visto che non l'ho ancora fatta. L'ho lasciata vuota. Allora, sperimenterò. E questo è un omaggino che mi ha mandato. E' bello. Bellissimo. Grazie mille davvero. Sei stata carinissima. Grazie davvero. Ok, allora questo è tutto. Anche per questo mese ho fatto veramente un disastro. Adesso corro a ripulire tutto e a decorare l'agenda. Ciao, alla prossima.